La provincia di Vercelli presenta in questi giorni una importante serie di programmi per promuovere il territorio vercellese in occasione di Expo. Siamo pronti, lo facciamo attraverso una serie di presenza all'interno di Expo, all'interno del padiglione di Cibus Italia e lo faremo attraverso una serata, che sarà la serata della nostra provincia, una data particolarmente facile da ricordare, l'11 settembre, in cui inviteremo tutti i bias, tutti i principali organi di stampa che si occupano, specifico del food, del cibo, del riso, dei prodotti dell'enogastronomia a livello internazionale, tutti i principali operatori in una serata appunto l'11 settembre all'interno di Expo. Poi attraverso una presenza fuori, nel cuore del fuori Expo all'interno di Milano, con questa terrazza organizzata e gestita dalla Sada del Riso Vercellese di Qualità, dove per tutti i sei mesi verranno costruiti percorsi di animazione che tenderanno a promuovere il nostro territorio vercellese. E poi all'interno della nostra provincia, con una serie di appuntamenti e iniziative che prendono il nome di corte cascine, un'altra occasione per conoscere i luoghi tradizionali della produzione e della promozione del riso vercellese. Ecco, queste sono alcune delle iniziative che vengono proposte per Expo, con l'obiettivo di far conoscere all'Italia e al mondo intero i grandi progressi fatti dai risicoltori vercellesi in questi ultimi decenni, proprio nel senso della promozione della qualità, della tecnica di ricerca, della valorizzazione ambientale e della valorizzazione del territorio. E dall'altra parte l'obiettivo è proprio quello di sempre promuovere e di far conoscere chi e cosa c'è dietro ogni chicco di riso, le persone, il territorio, la storia, le grandi varietà che abbiamo. Ecco, tutto quello che sta intorno al mondo del riso. Questa è un'occasione storica, straordinaria ed è giusto che il territorio provinciale svolga pieno il suo ruolo. Lo facciamo con sobrietà, l'abbiamo fatto con sobrietà, senza tanto chiasso, senza aiuti da parte di nessuno, con le pochissime risorse a disposizione, ma con l'aiuto di tantissimi privati, tantissimi enti che hanno aiutato a costruire questo percorso, dentro Expo, nel fuori Expo e sul territorio provinciale.